Siamo live, buonasera a tutti e benvenuti alla diretta settimanale ormai consueta. Io sono Francesco, oggi parliamo di Magento, anzi sarebbe meglio chiamarlo Adobe e-commerce, con due super esperti di Magento, Andrea Sacca di Magentiamo e Alessandro Montalti, anche l'esperto Magento di Magentiamo. Ciao e benvenuti. Ciao, buonasera a tutti. Allora, un'informazione di servizio, mercoledì scorso, mentre Marco stava facendo la live, si è bloccato StreamYard, perché c'è un bug di Facebook che stanno risolvendo. Nel caso si dovesse bloccare anche oggi, vi ho messo il link di YouTube, quindi nel caso cliccate e ci vediamo appunto su YouTube. Oggi, la live di oggi ci interessava portarla perché da qualche giorno si è diffusa la notizia, del rebranding di Magento. Quindi la versione di Magento Commerce, è stato tolto il nome Magento e è stata ribattezzata Adobe Commerce. Questo ci porta dietro tutta un'evoluzione che ha avuto Magento in questi anni, con diversi annunci che poi ha fatto Adobe in questi anni, e volevo approfondire appunto sia con Andrea sia con Alessandro, quello che è lo scenario attuale, da dove veniamo e quello che sarà il futuro prossimo di Magento. Mi piacerebbe però allargare in generale a qualsiasi domanda che riguardi non solo Magento, ma anche le piattaforme, visto che comunque siamo poi bene o male tutti molto orizzontali in termini di competenze su più piattaforme. Ale, so che hai preparato insieme a Andrea delle slide, allora saltiamo direttamente e andiamo alla presentazione, se siete d'accordo. Eccola qua. Assolutamente. Sì, abbiamo tutti i compiti e vi abbiamo preparato un po' di slide che ci aiutano a capire un po' il momento storico, dove siamo e dove stiamo andando. Per farlo partiamo un po' da quella che è la notizia, la notizia boom, quella che hai già anticipato, Adobe Commerce, e insieme io ed Andrea abbiamo preparato un piccolo percorso per cercare di intuire e in realtà aprire la discussione su dove stiamo andando. Quindi, bando alle ciance, piccolissima presentazione e poi ci siamo. Sì, mi presento velocemente, grazie Ale, grazie Francesco per la presentazione. Io sono Andrea Sacca, fondatore di Magentiamo.it, che negli anni è diventato un po' il punto di riferimento per Magento in Italia. Negli anni mi sono dedicato molto alla parte e-commerce, principalmente su questa piattaforma e tutti i business, le aziende, insomma, che ho creato negli anni, anche insieme ad Alessandro e Francesco, si occupano del mondo e-commerce legati a Magento, come Osgento per la parte di hosting, di e-commerce per la parte di agenzia e abbiamo anche realizzato vari e-commerce proprietari, tra cui Orologio Parete. Sono ovviamente ambassador di e-commerce school, stato speaker a vari eventi dove sempre ovviamente ho parlato di Magento e insomma, sono contento anche di essere qui con Alessandro, che da qualche mese ormai anche lui è parte integrante di Magentiamo e direi che adesso Ale puoi presentare anche un po' brevemente chi sei tu e poi iniziamo. Puoi dire, Andrea, che sei anche mio socio e sei colui che mi scarichi a terra le mie idee, ecco, questo è importante, anzi, grazie. Sì, 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 siamo soci in e-commerce e anche un'altra società appena nata in cui magari diremo qualcosa in più nei prossimi giorni. Io andrò velocissimo anche perché poi, insomma, io e te e Andrea abbiamo fatto tante live insieme, soprattutto un po' per gli appassionati di Magento che ci seguono. Chiacchieriamo di Magento, in realtà siamo già trovati dietro la stessa cattedra, no, sia dal punto di vista della formazione di Magentiamo, ma anche e-commerce school, quindi insomma diciamo che è una formazione abbastanza rodata. Io mi occupo da sempre, io sono ingegnere, architetto e-commerce, mi occupo di e-commerce in Magento da oltre dieci anni e in particolare il mio business principale è stato quello dello sviluppo, no, di piattaforme Magento all'interno di Cosmobile, ma sempre di più negli ultimi cinque anni, in particolare nell'ultimo anno super intenso con Magentiamo, tanta tanta formazione. Ovviamente, ecco, tutti e tre qui dietro e-commerce school, che è un po' un cappello che dà sempre ciò comune. E su questo ringrazio Francesco. Visto che la presentazione è finita, tornerei subito al punto chiave, che non siamo noi, no? È questo Adobe che ormai non ce lo possiamo dimenticare, lì davanti. Sì, proprio come diceva Francesco, proprio qualche giorno fa, in particolar modo il 21 aprile, Adobe si ne esce con questa notizia bomba che è stato uno scossone molto forte nel mondo magento, un po' internazionale, e dal comunicato appunto che è stato pubblicato sul blog di Magento, che vedete qua nella presentazione, è stato, hanno proprio spiegato le motivazioni di questo cambio di brand e la direzione effettivamente che sta prendendo Adobe con la piattaforma Magento. Quello che vedete è il blog di Magento e potete notare sin da subito che in alto a sinistra non c'è più proprio il logo di Magento e questo ci fa capire la direzione Enterprise che sta prendendo Adobe. Qui comunque nella presentazione, non so se Francesco poi ve lo può scrivere sotto nei commenti, vi lasciamo il link al comunicato, e di base le informazioni che vengono rilasciate in questo comunicato stampa sono principalmente tre, appunto che Magento Commerce, di cui poi più avanti ne parlerà Alessandro, viene rinominata in Adobe Commerce Cloud, e, no scusate, Magento Commerce e la versione Adobe Commerce Cloud si uniscono sotto il brand Adobe Commerce, quindi non verrà più menzionato Magento nelle comunicazioni e nel prodotto, nel prodotto Enterprise, quello che una volta veniva chiamato Enterprise, e giusto per rassicurare un po' anche tutta la parte della community, rimane comunque sia la Magento Open Source, quindi viene proprio fatto un cambiamento, una separazione radicale tra i due brand, quindi il prodotto Open Source rimarrà Magento, mentre il prodotto Enterprise Cloud verrà chiamato da oggi in poi Adobe Commerce, e sempre legato al discorso della community, Adobe si impegna a continuare la collaborazione per lo sviluppo della versione Open Source, la collaborazione per la divulgazione e la condivisione, insieme alla Magento Association, che poi è un po' un'associazione che appunto si occupa di promuovere e divulgare insomma le informazioni su Magento a livello internazionale. E questo cambio, questa separazione appunto dei brand, la notiamo anche, l'abbiamo notata un po' tutti anche per quanto riguarda le certificazioni, infatti quando prima si parlava delle certificazioni Magento, venivano accomunate insomma anche dal brand, dal logo, e dal naming proprio delle certificazioni, c'era la certificazione di front-end developer, la certificazione per back-end developer, o solution specialist per gli store manager, e adesso tutto questo cambia e le certificazioni diventano vere e proprie certificazioni Adobe. Infatti qua nella presentazione potete vedere che sono state rinominate anche le certificazioni, quindi tutto il percorso formativo che dovrà essere fatto per diventare degli sviluppatori e degli store manager certificati per la versione commerce. Ma in realtà Andrea, questo era già cambiato qualche tempo fa, lo guardavamo mi sembra già sei mesi fa, quindi questo è un percorso, cioè pian piano, come dicevi tu, il logo è nato a sinistra di Adobe Experience Cloud, le certificazioni che si uniformano a quelle di Marcheto, che anche questo è un software che ha comprato, che ha comprato Adobe e ha internalizzato, in realtà ecco, Magento mantiene per un po' i brand, però cerca un po' di uniformare, no? Cerca un po' di uniformare. La community, dicevi tu, che per tranquillizzare la community non è che siano tranquillissimi tutti quelli della community, no? Dipende un po' come l'hanno presa. Sicuramente è un taglio netto, sicuramente è un taglio netto, però, dicevamo... Sì, dicevamo, insomma, che comunque sia la piattaforma Magento non sparisce dal radar, viene semplicemente rinominata quella che è la versione Enterprise, proprio perché Adobe, da quando ha acquisito la piattaforma Magento, sta andando e sta posizionando Magento proprio in quella direzione, quindi qui ormai sono diversi anni che si parla di questa cosa, e la domanda principale è, ce lo aspettavamo? Sì, l'abbiamo voluta mettere qua, bella davanti, perché il tema è, ma noi, professionisti, piuttosto che la community, gli sviluppatori, ma anche chi usa Magento, se lo aspettava? Ci abbiamo un po' girato intorno, perché a noi la risposta diretta non ve la vogliamo dare, vogliamo ragionarla insieme a tutti, però proviamo a capire un po' in che punto siamo. Questo è il grafico dei quadranti di Gartner che cerca un po' tramite i quattro quadranti che vedete, quelli che magari sono un pochino più abituati, diciamo così, a vedere tutte le piattaforme, tutti i software, avranno già identificato i pallini, anche se magari lo vedete piccolo. Io cerco di raccontarvelo un pochettino per quelli che non riescono a vedere benissimo, però ci sono quattro quadranti in cui in alto a destra vedete i leader, in alto a sinistra vedete i challengers, quelli sfidanti, se vogliamo, cioè quelli che sono gli upcoming rispetto alle piattaforme leader, intendono più enterprise, e poi abbiamo in basso a destra i visionari, cioè quelli un pochettino più nuovi come funzionalità, come innovazione, eccetera, e i player di nicchia che sono invece quelli magari poco utilizzati oppure i newcomers, gli ultimi arrivati. Questo è un po' il quadrante di Gartner. Vedete che nel 2020, anche di questo vi abbiamo lasciato il link, che poi magari ve lo incolliamo sotto nella chat, vedete che Adobe Magento si posiziona tanto in alto. Questo è un po' l'obiettivo, ma Adobe ha tutti i software che si posizionano in quella fascia, da leader enterprise, no? Sia come pricing che come tipo di servizio. Ci ha portato anche Magento. C'è scritto un pochettino, cioè si parla di ricche funzionalità, impareggiabile capacità di personalizzazione, un po' marchettaro, no? Diciamo che Magento è cresciuto tanto e vogliamo portarvi qualche dato per raccontarvelo, no? In questo caso vi facciamo vedere lo stesso quadrante, no? Il quattro quadrante di Gartner, ma ve lo facciamo vedere di tre anni fa, 2017. Poi vi raccontiamo cosa è successo in questi tre anni, no? Potete immaginare, è arrivato Adobe. Però guardate dov'era. Magento già viveva nel quadrante, quello in alto a destra, però era sotto a tutti quelli che erano un Salesforce, Salesforce, SAP, Ibris, Oracle, IBM. E guardate invece come si è spostato il quadrante in tre anni. Magento è andato su. Ora, lì su ci sono Salesforce e Adobe Magento, in alto, i player importanti, no? Ovviamente gli altri sono rimasti, ma il quadrante si è un po' mosso. Visto che Francesco diceva giustamente, parliamo un po' di tutti, non soltanto di Magento, no? Che fine fa il mercato? Come questo quadrante ha cambiato? Io vi farei notare almeno due player che sono cambiati abbastanza. Uno è Shopify, che nel 2017 lo vedete in basso a sinistra. In basso a sinistra, nei player di nicchia. Cioè era già usatissimo, ma nicchia nel senso di quei player con cui non si fa tutto questo fatturato. Ma era soprattutto percepito per piccoli business. Guardate che fine ha fatto Shopify. È andato in alto a sinistra, ma in alto. Cioè Shopify ha, anche lui, ha avuto un approccio al mercato davvero molto importante, è un cambiamento che ne fa una piattaforma importantissima ad oggi sul mercato, no? E sempre per guardare i challengers, guardiamo BigCommerce, che è un'altra piattaforma con, diciamo, un modello di business un po' a metà, tra una piattaforma SaaS e una piattaforma un po' più configurabile. BigCommerce, che si è postato anche lui dalla nicchia in basso a sinistra, tra l'altro molto in basso, BigCommerce, invece è un challenger, quindi anche lui ha avuto un'evoluzione di mercato importante. Ecco, quindi, challenger, leaders, Magento va in quella direzione lì. È sicuramente per le aziende importanti, strutturate che stanno investendo sul canale e-commerce e sulle esperienze che si possono creare di acquisto sul canale e-commerce, no? O meglio, lì sta andando ad ob e-commerce. Ecco, questo. Forse slegare questi due brand è stato un punto importante. Perché dicevamo, ci facevamo la domanda e ce lo aspettavamo? Perché il mercato in realtà ci ha già insegnato tutto, no? Ci ha già detto dove andare. E allora Salesforce acquisisce Demandware in giugno 2016, Salesforce è un altro bel cannibale che lascia pochi brand, no? A parte il suo, e subito diventa Salesforce Commerce Cloud. Però non è l'unico, no? E sul mercato ce ne sono anche altri, ma io vi porto i più, noi vi abbiamo preparato un po' i più comuni. SAP che acquisisse Ibris tre anni prima di Salesforce, quindi SAP è entrata nel tema dell'e-commerce, nel mondo e-commerce già nel 2013. In realtà prima comincia a associare il brand, no? SAP Ibris, e poi alla fine, in realtà questa è una notizia abbastanza recente, SAP Commerce Cloud. È un punto importante. Quindi Magento viene acquisito a maggio 2018, viene acquisito da Adobe, che fine doveva fare, no? In realtà sì, ce lo dovevamo aspettare. Quindi questo è un po' il passaggio per noi obbligato, non lo sapevamo, sarebbe arrivato, avrebbe fatto male, lo sapevano tutti, no? Però in realtà è anche un'opportunità. Noi dobbiamo vedere il cambiamento che è fisiologico come delle opportunità. Probabilmente questa è un'opportunità di far andare Adobe e-commerce ancora più enterprise e magari Magento riesce a tenere una dimensione che non scontenti, per esempio, tutte le aziende che avevano paura che non fosse più il software per loro. Però facciamo un passo indietro, cioè prima di proiettarci un po' per il futuro, no? Cerchiamo di capire a che punto siamo, perché non tutti magari conoscono bene il percorso che ha fatto Magento e da dove è arrivato qui, no? Ad Adobe e-commerce. Quindi Andrea ci racconta un pochettino, no? Ci siamo un po' divisi i compiti. Andrea ci racconta un pochettino, visto che lui lo seguiva praticamente dall'inizio, credo qualche anno prima di me. Vi racconta un po' che punto da dove è partito. Sì, diciamo che io ho iniziato proprio a studiare, a lavorare con la piattaforma Magento dai primissimi anni. Magento di base nasce nel 2007 da una società americana, dalla Varian, e io mi ricordo che le prime volte che ho sentito il nome Magento era appunto, mi sembra, il 2009, quindi solo due anni dopo dalla sua nascita. Mi sono appassionato di questa piattaforma e ormai ne ho fatto quasi una ragione di vita, perché sono tantissimi, tantissimi anni che conosco e lavoro e progetto soluzioni e-commerce con questa piattaforma. Magento negli anni ha subito tantissime evoluzioni e varie acquisizioni. Addirittura nel 2011 il gruppo eBay ha acquisito il 49% e con la visione sicuramente di integrare poi PayPal all'interno della piattaforma e diffonderla un po' come soluzione di pagamento nativa nelle soluzioni Magento. E successivamente una delle acquisizioni più grandi appunto è stata questa di Adobe, che ha acquisito appunto il 100% della società per 1,68 miliardi. Quindi veramente c'è stata sicuramente una contrattazione importante. Sì, è giusto due speech, no? Come direbbe un nostro carissimo amico. Quindi sicuramente con questa acquisizione è stata pensata e Adobe già lo sappiamo da anni che lavora a soluzioni cloud molto molto importanti e diffuse e l'obiettivo principale di questa acquisizione è stato appunto entrare nel settore e-commerce, che è uno di quelli con un'evoluzione più importante negli ultimi anni. Se passiamo alla prossima slide, vediamo infatti il boost che ha avuto la piattaforma Magento da quando Adobe l'ha acquisita. Ci sono stati tanti tanti cambiamenti. Io immagino che se seguite un po' Magentiamo l'avete notato perché pubblichiamo veramente tutti gli aggiornamenti, tutta la roadmap che è pubblica e effettivamente da quando c'è stato il cambio un po' generazionale da Magento 1 a Magento 2, gli sviluppi dopo l'acquisizione di Adobe sono stati velocizzati e sono state implementate tantissime funzionalità. soprattutto, non solo per la parte open source, ma anche per la versione commerce cloud, dove sono stati integrati tantissimi, sì, soprattutto dove sono stati integrati vari servizi cloud di Adobe, come Adobe Stock, Adobe Sensei ed altri servizi cloud anche come quello di Amazon, Amazon Recognize e Amazon Alexa. No, 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 ma giusto per due parole, no? Adobe gli mancava l'e-commerce, cioè aveva una suite di analytics, già dal 2000, mi ricordo di avere seguito eventi di Adobe nel 2010, già aveva una suite di analytics fortissima, strumenti di marketing superforti, acquisito marketing qualche anno prima per la marketing di automation, mancava una piattaforma, no? I suoi competitor ce l'avevano. In più, dal momento in cui gli ha creato un posto all'interno del cloud, cloud poi basato su Amazon AWS, ci ha messo servizi, chiaramente, enterprise. Adobe Sensei è una intelligenza artificiale. Adobe Stock è una suite di stock di foto fighissima, molto completa, costicchia, ma è completa. Amazon Recognize e Alexa sono due strumenti che è eredita da Amazon, dalla suite di Amazon AWS, e che lui integra già. Quindi tutto lo stack è fatto per chi nell'e-commerce ha bisogno di strumenti avanzati di vendita. Sì, tra l'altro... Il valore aggiunto è anche poi, sono anche tutti gli strumenti di editing che aveva già in pancia Adobe, da Illustrator, Photoshop e tanti altri. E quello diventa veramente poi interessante a livello di integrazione con la piattaforma e-commerce. Sì, anche perché proprio per il discorso di marketing spesso noi ci confrontiamo sulla velocità necessaria di esecuzione e di creazione anche di landing page dedicate e spesso lo sviluppo rallenta il marketing. Invece, appunto, proprio con l'integrazione di tutti questi sistemi cloud di Adobe, integrati all'interno della versione Magento Commerce Cloud, che adesso, insomma, si chiamerà Adobe Commerce, si velocizza tantissimo il marketing. All'interno della cloud c'è un visual builder che si collega, come diceva Ale, con Alessandro, con Adobe Stock, quindi si possono creare delle landing page di vendita con un visual builder molto veloce e potente, veramente in minuti. Ovviamente tutto integrato con i loro servizi cloud, quindi sicuramente il marketing poi beneficia di tutti questi strumenti. e come diceva Alessandro, effettivamente avevano tutto, ma gli mancava proprio la parte e-commerce. Di base abbiamo... Sì, vai. Ti volevo fare il lancio, però se vuoi... No, me lo fai, io lo aspetto a questo punto. Sì, sì, ne abbiamo parlato già tanto, insomma, le versioni di Magento sono sempre state due, c'è sempre stata la versione open source, quindi gratuita, tra virgolette, disponibile gratuitamente sul mercato, quindi chiunque se la può scaricare, che in passato veniva chiamata Magento Community Edition e poi negli anni si è evoluta la versione enterprise ed è diventata la Magento Commerce. Adesso stiamo vivendo un'ulteriore evoluzione e la Magento Commerce viene semplicemente ribrandizzata e rinominata Adobe. Eh sì, a un certo punto, vedete, c'è una separazione, no? Chiamiamo due cose diverse, perché sono effettivamente due cose diverse, due piattaforme, due software diversi, fatti per due, anche target differenti, e cominciamo a chiamare con nomi diversi. È vero che ci fa male, ci dà un po' fastidio, ci smuove la terra sotto i piedi, però non è così sbagliato in fondo, se ci pensiamo. Quindi adesso, noi vi abbiamo preparato un po' di nozioni, poi riguardando i video, leggendo un pochettino quello che vi abbiamo raccontato, potete un po' capire le differenze. Noi molte differenze in realtà le passeremo velocemente, perché non siamo qui a raccontarvi cosa è una e cosa è l'altra. Per noi è importante capire che da una parte c'è una piattaforma rilasciata con una licenza open source, gratuitamente, no? C'è un'uniformità di versioni, fino adesso, che è stata mantenuta, che è la 242 in realtà, e ci sono già tutta una serie di funzionalità integrate, come ad esempio l'Astic Search, tutte funzionalità e supporti che ne fanno una piattaforma importante e interessante sul mercato, anche a livello di performance. Per quanto si voglia, le ultime evoluzioni hanno migliorato, no? Con qualche accorgimento, le performance che aveva la piattaforma. Tanto. Adobe Commerce ha tutto quel gancio che dicevamo prima, cioè ha tutta quella complettezza di struttura, struttura, cloud, quindi anche l'approccio a quello di solito, tranne che uno non abbia un progetto fortemente personalizzato, è quello di avere anche un contenitore di servizi, di hosting, con tantissimi servizi collegati all'interno, all'interno di cui sviluppare. Cioè parliamo davvero di suite importanti, ok? Funzionalità avanzate, builder avanzati, agganci ad altre tecnologie della suite Adobe, e io questo lo continuo a dire, perché è importante, e perché è una differenziazione importante dalle altre piattaforme, Magento, quali hanno dello stesso motore, ha dei moduli dedicati al B2B, business to business, le altre non ce l'hanno. Quindi visto che le piattaforme classiche, ovviamente non posso parlare, non parlo di tutti e mettiamo a terra questa frase, però parliamo di Salesforce Commerce, parliamo di Shopify, parliamo di altri, il B2B è un tema importante spesso per le aziende. Avere una piattaforma, averne due, è un tema da valutare, anche a livello strutturale. Magento è una di quelle piattaforme che, nella sua anima, ha anche dei moduli B2B, enterprise anche molto potenti, che secondo me sono un tema importante, da analizzare e da conoscere. Dicevamo che è un'infrastruttura, questo per dirlo, ma le piattaforme enterprise vanno già in questa direzione, SAP Commerce, Salesforce Commerce, ne avevano tutti il cloud, il loro cloud in cui vivere e nascere. Magento ha anche la possibilità, o meglio, Adobe Commerce, finora ha la possibilità, ha la possibilità anche di non essere usata per forza qui. Però guardate un po' quante funzionalità che ci sono sopra. C'è Fastly, la CDN, per le delivery, c'è New Relic e Blackfire.io, che sono due software che gli sviluppatori potranno apprezzare, per debagare, ottimizzare le performance. C'è tanta roba, ok? Senza andare troppo sul tecnico. E per dirvi, c'è tutta questa parte qua, ed è compresa l'interno delle licenze. C'è ovviamente una licenza Enterprise, però in questa licenza annuale c'è dentro il contenitore e il contenuto. Ovviamente poi uno lo personalizza. Ho bisogno di un contenitore, cioè di una parte di cloud, molto molto personalizzata, allora me lo metto un po' dove voglio io. Che è un qualcosa in più, forse, perché se fosse commerce, Shopify, piuttosto che sub commerce, non me le metto un po', non me le metto dove voglio io, no? Non c'è la versione on premise, no? Tranne che in caso di piattaforme particolari. Però, ecco, intanto capiamo di cosa parliamo. E nella 2.4, ripeto, non andiamo a raccontarvi proprio tutti i singoli dettagli, ma è una piattaforma che è migliorata tanto, ok? E che è andato verso l'utilizzo di servizi molto, molto ottimizzati, rispetto a prima. Poi ce ne sarebbe da fare un casino, no? E chi ci sbatte la testa, abbiamo un paio di chat tra sviluppatori, in cui, diciamo, peste e corna, di Magento, e ci sono addirittura degli account di Twitter fighissimi, in cui ci sono tutti i meme, in cui ne dicono peste e corna, no? Di tutti i bug che... Però questo è un po' per tutte le piattaforme, no? Odio, amore per il tuo strumento di lavoro. Però, insomma, andiamo verso questo tipo di direzione. In più abbiamo una roadmap, bisogna ridere. Vai tu, Andrea. Sì, la roadmap, la roadmap di base è pubblica, quindi qui farei un ragionamento un po' più esteso. Quando si progetta la piattaforma e-commerce è importante, soprattutto anche nel caso di Magento, tenere in considerazione anche il fatto che se si usa anche la versione, soprattutto la versione open source, che questa versione viene aggiornata nel tempo. Quindi, essendo anche una versione open source ed essendo pubblica su GitHub, ci sono tutta una serie di bug che vengono segnalati e nel tempo vengono fixati, sia dal team di Adobe, sia dalla community. Come facciamo noi a tenere aggiornata la nostra piattaforma? C'è Adobe che ha reso pubblica la roadmap degli sviluppi e degli aggiornamenti e in fase di progettazione è importante tenere in considerazione questa cosa, perché nel momento in cui noi progettiamo una piattaforma dobbiamo anche tenere da parte un budget per gli aggiornamenti che dovranno essere fatti in futuro. Tutti questi aggiornamenti, ovviamente, se si fa la piattaforma open source, non sono inclusi, quindi l'agenzia che vi seguirà ve li farà pagare, giustamente, però a livello proprio imprenditoriale bisogna considerare tutta una serie di costi aggiuntivi alla piattaforma. Mentre se si fa la piattaforma Adobe Commerce in cloud, ovviamente tutti questi aggiornamenti sono inclusi nella licenza. Questo giustamente per dire che bisogna essere pronti anche a tutta una serie di lavorazioni che dovranno essere fatte durante l'anno sulla propria piattaforma. Qui vi lascio il link con tutti gli aggiornamenti previsti per il 2021, quindi nel momento in cui poi vengono rilasciate periodicamente, solitamente ogni trimestre, delle patch di sicurezza, degli aggiornamenti di prestazioni, è importante mantenere sempre aggiornata la piattaforma. Perché? Perché molto spesso io personalmente, ma penso anche a Alessandro, abbiamo notato che si sviluppa spesso una piattaforma, ma poi non si mantiene aggiornata per tanti anni ed effettivamente lì nascono i problemi, perché diciamocela tutta, questi aggiornamenti vengono fatti sia per migliorarne le prestazioni, ma anche e soprattutto per risolvere eventuali problemi di sicurezza che negli anni emergono. Quindi è importante tener conto nella fase di progettazione e di sviluppo del proprio e-commerce anche una continuità di aggiornamento della propria piattaforma, ovviamente se si va sulla versione open source, se si va sulla cloud, ripeto, ovviamente tutta questa roadmap è inclusa all'interno della licenza. Comunque, questo è un aspetto molto importante, perché va pianificato sin dall'inizio, molti imprenditori pensano che lo sviluppo si fermi al go live, o comunque gli investimenti legati alla parte tecnica si fermino nel momento in cui si va live, invece ci si lavora sempre sul sito e si lavora molto anche dopo il go live, è giusto conoscere le roadmap degli aggiornamenti, tutte le piattaforme open source le hanno, anche Press, Shop ovviamente o WooCommerce e quindi già farsi una roadmap di quelli che possono essere degli investimenti aggiuntivi per avere a bilancio quelli che sono i costi di andare poi ad allocare per questi update che comunque non sono velocissimi, non è che si spinge un pulsante e si fa l'aggiornamento. Diciamo anche che Magento 2 rispetto allo 1 è cresciuto un pelino anche come prezzi e anche come in alcuni casi anche tempistiche di sviluppo. Mi collego a una domanda che ci hanno fatto se un e-commerce Magento potrà mai essere una soluzione per un e-commerce che vuole crescere e lavorare, dico a monte che la piattaforma e-commerce non è quella che ti fa vendere o che ti fa crescere o lavorare se il progetto funziona dipende dal modello di business dall'execution dal servizio da come è impostato il business la piattaforma è una piccola parte di tutto quello che deve andare a mettere online e fare in un progetto e-commerce non esiste la migliore piattaforma esiste la migliore piattaforma per la tipologia di progetto che deve andare a implementare quindi su molti progetti Shopify è ideale su altri pressa shop è perfetto su altri ancora magento casca pennello poi è chiaro che bisogna fare un'analisi funzionale del progetto dare un occhio anche ai budget perché anche quelli sono importanti capire che tipo di infrastruttura tecnologica deve andare a costruire intorno alla piattaforma perché spesso ha necessità di avere tutta un'infrastruttura diciamo di gestione dei dati o collaterale alla piattaforma volete andare a integrare banalmente dei PIM dei sistemi di integrazione ordini da più fonti software esterni business intelligence eccetera eccetera quindi bisogna sempre su ogni progetto e-commerce insieme alla parte di pianificazione e business planning andare a fare un'analisi funzionale tecnica del progetto per individuare quella che è la migliore piattaforma per quel progetto specifico aggiungo l'ultima cosa poi mi taccio non bruciatevi tutto il 100% l'80% del vostro budget in piattaforma perché quando poi andate live il traffico non vi arriva e entrate in un limbo dove non producete vendite quindi allocate sempre la gran parte del budget su tutto il progetto sul marketing e andate a investire insomma massimo un 20-30% dell'intero budget sulla piattaforma questo non significa che deve far schifo la piattaforma però lasciatevi soldi poi per i costi di gestione ma soprattutto di advertising che è la leva fondamentale e principale con la quale scalare e crescere nel momento in cui si va online direi che più che noi su questo ci confrontiamo spessissimo e diciamo sempre che la tecnologia non è condizione necessaria per il successo non è condizione scusate mi sufficiente però su alcuni business nel 2021 è necessario avere una piattaforma che sia abilitante la tecnologia a servizio della strategia e del marketing anche perché altrimenti altrimenti alla fine noi vi facciamo io e Andrea vi possiamo seguire o chiunque qualsiasi agenzia vi può seguire e fare una piattaforma che non vende e voi chiuderete non è questo l'obiettivo di nessuno è importante capire bene di cosa si ha bisogno quindi capire bene il business la manager funzionale che diceva Francesco e poi avere strategia ma guarda faccio un altro esempio abbiamo fatto una consulenza per un grosso gruppo che hanno investito veramente tanto sulla parte tecnica progetto una grande catena poi la loro problematica è che su ogni ordine perdono x soldi adesso non voglio fare riferimenti però perdono tanto su ogni ordine quindi in quel caso è tutta l'impostazione del business che è stata studiata male perché non è stato ottimizzato il modello di business sin dall'inizio quindi tutti gli investimenti in piattaforma non stanno aiutando il business anzi ogni vendita che entra in quell'e-commerce produce una perdita addirittura quindi è il contrario proprio di quello che dovrebbe essere direi che se sei d'accordo Francesco noi ci buttiamo un po' alla parte importante che è che cosa ci riserve il futuro ovviamente è un discorso aperto perché noi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo io ne andrei altrimenti a quest'ora l'avremmo usato per fare altro trading ad esempio per comprare cripto esatto però intanto vorremmo vedere qualche numero insieme a proposito di cripto visto che siamo tutti abbastanza addicted con Andrea stiamo preparando una una live sulla cripto e quindi su come poi anche integrarli all'interno dell'e-commerce parleremo di blockchain e di gateway di pagamento che sono già disponibili e perfettamente integrabili molto interessante intanto torniamo un attimo su mangento perché facciamo una chiacchierata un po' e vediamo qualche numero perché altrimenti ci facciamo un sacco di idee e ci facciamo prendere dall'ansia dal momento e invece questa cosa qui è importante i numeri sono un indicatore fondamentale per prendere le giuste decisioni capiamo di quanti e-commerce parliamo 70.000 71.000 quasi e-commerce in magento 1 presenti sul mercato 42.000 in crescita e-commerce presenti su magento 2 e-commerce ci sono ok nonostante sia una piattaforma che subisce cambiamenti ovviamente in decrescita magento 1 in crescita magento 2 però ci sono per farvi capire e vedere gli stessi dati sempre similar tech se volete andare a giocare un po' a vedere qualche numero non vi invitiamo a farlo capite che magento rispetto anche a altre piattaforme ha degli indicatori importanti cioè a livello di prest di utilizzo di diffusione ad esempio è più o meno paritario direi con prestashop qualcosina in più ma ripeto ci sono due trend uno che cresce l'altro che decresce mentre per esempio ci sono altre piattaforme ne abbiamo pareggiato una che conosciamo bene perché tantissimi esperti di magento si stanno muovendo verso shopware però shopware ha un grado di utilizzo di approfondimento e anche funzionalità che è un pochino più ridotto rispetto a magento quindi è vero che ci posso andare però devo capire bene se il mio business in qualche modo al mio business manca qualcosa cioè devo capire un po' le caratteristiche della piattaforma e devo capire effettivamente che tipo di community che tipo di plugin moduli software diciamo così know-how è già presente sul mercato questo mi velocita tantissimo se è presente come è presente su magento come magentiamo cosa fa in realtà aiuta a centralizzare aiuta a informare su tutto quello che è know-how e la community proprio per aiutare a velocizzare il business su questo tipo di tecnologia c'è anche tantissimo contenuto suppresso è in crescita anche quello su shopware però cerchiamo di capire a che punto guardiamo magento ad oggi è più che vivo ok e non è questa una notizia di un rebranding che cambia sì guarda se torni solo un secondo indietro Ale volevo fare un piccolo appunto tra virgolette su su questa slide e fare un focus particolare sul discorso magento 1 e magento 2 e questa evoluzione naturale di magento che diventa adobe commerce l'anno scorso durante il magentiamo day abbiamo fatto che tra l'altro abbiamo fatto il 30 giugno proprio il giorno del 30 giugno è finito è scaduto il supporto ufficiale da parte di adobe per magento 1 però questo ha creato un sacco di confusione globale sia in Italia sia nel resto del mondo perché un po' la percezione e la mala informazione hanno messo un sacco di note negative su questa piattaforma magento 1 questi dati noi li abbiamo presi proprio oggi insieme ad Alessandro su SimilarTech e ci fa capire che anche se sono dei numeri in continuo cambiamento magento 1 è ancora altamente diffuso e tanti sicuramente stanno cercando di capire in quale direzione andare tanti migreranno a magento 2 tanti faranno l'aggiornamento del core a open age e tanti altri magari capiranno su che piattaforma andare chi migrerà a Shopify chi migrerà a PrestaShop e quindi questa evoluzione di cui stiamo parlando adobe commerce non sarà un'evoluzione immediata che distruggerà magento come piattaforma open source o almeno lo speriamo quindi volevo fare giusto questo piccolo appunto perché dall'anno scorso che si parla di questo fine no dall'anno scorso da più di un anno si parla di questa fine di vita di magento 1 ma se vediamo i dati se vediamo i numeri effettivamente ancora magento 1 è molto utilizzata consigliamo ovviamente di prendere delle soluzioni adeguate per l'evoluzione del business magento 2 ha preso molto piede e sicuramente questo cambiamento di adobe sta portando la piattaforma su un livello ancora più enterprise però detto questo magento domani non muore non sparisce all'improvviso e come diceva Francesco la piattaforma è una parte dell'e-commerce quindi non consideriamola come l'e-commerce ma va fatto un business plan a monte e prima di scegliere quale piattaforma fare o su quale piattaforma migrare bisogna capire bene qual è l'indirizzo che vogliamo prendere con il nostro business sì diciamo diciamo e qui poi mi ricollego anche a una domanda diciamo che magento 2 appena uscito non era non era utilizzabile la 2.0 e anche le le release successive avevano tante tante difficoltà ok Vincenzo Vincenzo stava dicendo in chat comunque che ha dei problemi poi con il magento 2.3 che hanno attualmente e vendono arredamento ma in generale comunque non parlo di noi perché insomma per fortuna io ho un socio e poi anche con Alessandro facciamo altri progetti che problemi su magento 2 non ne abbiamo mai avuti insomma ho la fortuna di lavorare con veramente dei grandi esperti però tra corsi eventi insomma nel network non mi capita cioè mi capita spesso di sentire tanti imprenditori non così contenti su magento sia magari per dei tempi di sviluppo lunghi perché magari tante attività sono complesse da fare c'è meno almeno io lo dico non da tecnico ma poi da 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 marketer o esperto di e-commerce management vedo molta meno velocità rispetto a quello che avevamo su magento 1 vedo costi più elevati e vedo anche probabilmente anche molta meno competenza sul mercato da parte di tante agenzie tant'è che molte agenzie che prima sviluppavano magento o si sono buttate su pressa shop o si sono buttate su shopify o si sono buttate su shopware e hanno abbandonato magento 2 probabilmente perché a forza di sbatterci la testa dopo un po' hanno detto andiamo su altre tipologie di piattaforme visto che comunque noi in e-commerce school non dobbiamo vendere nulla nel senso che è il nostro obiettivo e nasciamo per questo per fare divulgazione in maniera sempre trasparente quindi ci tenevo anche a chiedervi questo un vostro punto di vista non tanto da tecnico se riuscite un attimo a togliervi il cappello da tecnico ma da tecnici ma avendo a che fare anche voi insomma con tanti imprenditori qual è il vostro punto di vista riguardo guarda quello che dici è giusto e secondo me tutti questi feedback devono comunque essere tenuti in considerazione Magento 2 è una piattaforma che rispetto a Magento 1 di uguale c'è solo il nome perché è davvero una piattaforma completamente diversa completamente diversa come in parte target come complessità tecnica e giuro il cappello da tecnico finisce qui non mi parlerò di troppo di tecnologie ma il tema è questo cioè anche padroneggiarla è un qualcosa di complicato e molte agenzie che secondo me erano ben strutturate per fare un progetto buono su Magento 1 non avevano le stesse competenze o magari non hanno seguito o avuto un percorso di formazione lungo per fare lo stesso tipo di progetto su Magento 2 e tu non puoi sbattere a terra sul mercato la tua formazione aggiungendolo ai tempi di sviluppo altrimenti crea un gap secondo me il gap è stato qui un tema è dire scelgo una piattaforma che non è ad oggi ancora assestata matura 2.0 2.1 nella mia personale opinione 2.1 ancora non lo era una piattaforma su cui fare business in modo importante e sicuro era ricerca e sviluppo ok però detto questo il client il target merchant imprenditore su Magento 1 non è detto che sia lo stesso su Magento 2 c'è un parallelismo una sovrapposizione ma Magento 2 è complicata ci vuole un partner competente di cui bisogna verificare cosa ha fatto quali sono le altre piattaforme che ha realizzato le funzionalità un partner che ha metabolizzato comunque quel tipo di tecnologia ha creato un team con quelle competenze e non che ha fatto progetti su Magento 1 e allora proviamo lo dico ad agenzia che comunque sia fatta male nel passaggio a livello di formazione è stato investito tanto e è giusto secondo me che una piattaforma così complessa non serve per tutti a tutti i costi però dà delle opportunità se ho il budget e se ho il come dire se il mio business gode di questa complessità cioè gli serve questa complessità per differenziarsi dai competitor cioè se io sono in questo scenario Magento 2 è un'opportunità sì diciamo ci sono anche tanti e-commerce che prima erano su Magento 1 che comunque era una piattaforma for the masses nel senso era comunque accessibile a tanti avendo anche dei costi sicuramente inferiore a Magento 2 adesso si è spaccato molto il mercato e tanti progetti su Magento 1 non hanno un'estrema necessità di andare su Magento 2 tendenzialmente insomma tranne quelli che magari avevano forti customizzazioni oppure per esempio noi i nostri e-commerce li gestiamo con un'architettura di multidominio multistore multivaluto eccetera complessa e utilizziamo Magento e ci troviamo benissimo però è chiaro che altri progetti ce li abbiamo anche su Prestashop laddove non ho quelle complessità per il quale dico da imprenditore vado a utilizzare Magento no adesso ne stiamo lanciando un altro su Shopify perché abbiamo 20 prodotti tendenzialmente quindi e abbiamo già definito che andremo a utilizzare una serie di tool e ok allora in quel caso può andare bene Shopify quindi dovete sempre capire in base al vostro modello di business al vostro catalogo le vostre personalizzazioni alle customizzazioni che avete nella piattaforma quanto volete lavorare in maniera personalizzata su front end quindi con grafiche estremamente personalizzate quanto e come affrontare la parte di mobile eccetera eccetera quindi sono tutta una serie di aspetti da considerare prima di dire vado su una piattaforma piuttosto che un'altra ad oggi dal mio punto di vista e avendoci messo i soldi proprio di tasca mia su progetti Magento sicuramente da imprenditore vedo che costa di più rispetto a tanti progetti ma proprio perché vedo più ore di sviluppo necessarie per fare tante attività è chiaro che più mi si aumenta la sartorialità e Magento è molto sartoriale e più mi dà un'infrastruttura bella potente scalabile e più diventa poi complesso e più lungo anche come i tempi andarci a mettere le mani dentro sì ma lo notiamo anche nel costo sia delle delle estensioni semplicemente dei moduli che rispetto a Magento 1 su Magento 2 costano 2 o 3 volte tanto così come i tempi di sviluppo a parer mio raddoppiano se non triplicano sia per soprattutto per il discorso che faceva Alessandro sulla anche sulla mancanza di formazione mancanza di risorse e tempo da investire proprio nello sviluppo perché effettivamente per sviluppare un e-commerce su Magento 2 un frontend un modulo o qualsiasi altra cosa l'architettura è completamente diversa rispetto a quella di Magento 1 e richiede molto più tempo e questo ovviamente si trasforma in costi sicuramente più elevati anche per lo sviluppo tempi e costi tutto giustissimo ma giusto per cercare di stare nel mezzo porto quello che è un commento di un collega che invece è specializzato e ha avuto molta esperienza su Salesforce Commerce lo sviluppo su Salesforce Commerce per esempio è anche cioè la parità di funzionalità rispetto a Magento 2 è già di per sé un per tre cioè in quel caso ci sono delle piattaforme più complesse in cui la modularità è gestita in maniera più complessa che hanno in cui bisogna investire risorse in sviluppo a fronte però di vantaggi cioè quello che dico io non c'è il più brutto il più bello ci sono caratteristiche strutturali diverse il mercato va avanti Google complica Google i player i competitor anche le aspettative dell'utente perché i player alzano la sticella il mercato si alza e si complica quindi le tecnologie devono complicarsi per far fronte a più funzionalità questo è un po' il tema certo Magento 2 ne dà più di Magento 1 e poi ha strutturato in un certo modo Salesforce Commerce che invece ha tanti altri pregi ed è una piattaforma anche questa molto enterprise molto interessante per esempio costa di più il livello di sviluppo ma sembra che costi di meno il livello di aggiornamento cioè si aggiorna con meno effort meno personalizzazioni di quelli che sono poi a cascata i moduli e gli sviluppi se fatti bene anche qui se fatti bene cioè partner formato competente cioè questo è sicuramente un tema importante però per dire è che Magento 2 è il top cioè quello che ci mette di più sul mercato piuttosto che altro è importante capire la tecnologia come diceva Francesco analizzare di cosa ho bisogno e che cosa mi offrono le opportunità tecnologiche andiamo avanti dove eravamo arrivati qua Magento 3 addirittura è il rumor che non vedevamo l'ora di lanciarvi perché è scattata proprio qualche giorno fa è scattata qualche giorno fa che ce la siamo lanciati io e Andrea quindi visto che me l'ha mandata lui se vuoi ti lascio il rumor di Magento 3 sì sì eravamo non ci credo non ci credo no eravamo insieme qualche giorno fa io e Alessandro e ho trovato questo post su LinkedIn di questo ragazzo un ex sviluppatore tra l'altro Magento che ha proprio contribuito credo abbia lavorato proprio nel team Magento e ha pubblicato questo annuncio di lavoro di Adobe dove sostanzialmente ricercano sviluppatori per che abbiano delle competenze con il linguaggio Java per sviluppare la nuova versione di Magento solo questo si legge su questo post e quindi il rumor è ok quindi Adobe sta sviluppando anche addirittura la versione nuova di Magento Magento 3 e quindi qua abbiamo iniziato a fare tutta una serie di discorsi insieme ad Alessandro soprattutto anche sul linguaggio di programmazione qua però forse andiamo un po' più sul tecnico però il nostro discorso è stiamo attenti un po' a tutto quello che poi leggiamo ascoltiamo in giro perché effettivamente potrebbero essere anche delle informazioni forvianti però sicuramente da questo post possiamo capire che Adobe si sta no no solo interpretazione nel senso che questo post da dove nasce nasce da una ricerca di una job come si dice da Optiton di Adobe che ha pubblicato e ci sono delle interpretazioni e quindi ovviamente un po' il mercato è fatto anche così di rumors di interpretazioni di opinioni no ci sono gli opinionisti nel calcio ci sono gli opinionisti su tutto Magento poi è un brand molto amato e molto odiato insieme non molto amato dai tecnici guarda c'è un ospite sorpresa ciao 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 ragazzi ciao ragazzi ho visto i migliori non potevano commentare ciao come stai bene bene sono lì che no molto interessante addirittura Magento 3 già ne parlate io ancora sono lì per la testa sul no non volevamo solamente a nessuno è stata un po' una provocazione diciamo ah ok fateci superare il quadro allora per un po' esatto esatto no penso diretta super interessante qui purtroppo ho perso una parte che ricordo domani me la riguardo ci sono tante tematiche sul nuovo Magento tante anche punti di vista positivi e negativi allora Jonathan ormai sei famoso ti conosco in tanti però per chi non ti conosce commerce manager di FSPA Moschino Alberta Ferretti Pollini Custo e tanti altri brand utilizzate in azienda come scelta tecnologica Magento commerce Adobe commerce adesso si chiama se utilizzeremo se adesso siamo con l'uno utilizzeremo appena andremo live quindi già che ci sei ti volevamo chiedere sia come state affrontando la migrazione quanto tempo anche ci avete messo anche se lo so però lo raccontiamo e in generale rispetto poi tu conosci molto il mondo del fashion dell'e commerce anche dopo tanti anni come avete valutato diciamo Magento come scelta tecnologica per un'azienda come come F Allora diciamo che si poi intanto sono buttato dentro altre discussioni da altri colleghi che mi chiedono feedback sulle varie piattaforme va di moda Shopify va di moda Vutex va di moda insomma ci sono tante diciamo che per il fashion la tematica principale sono i listini sono i markup e le country che magari in altri ambiti sono meno considerati però capita magari che ti dicono che in Scandinavia anche contro la legge del job blocking va fatto un markup diverso perché e tutto questo non è facile da gestire su diverse piattaforme come sappiamo che Shopify ti chiede comunque un certo tipo di live di licenza e tutto il resto sicuramente c'è della creatività Francesco tu lo sai nel fashion e a volte anche al contrario nel senso magari più rigidità da una parte più creatività dall'altra quindi c'è bisogno di qualcosa che sia molto customizzabile sicuramente sì e quindi non è facile andare su soluzioni un po' friendly se vogliamo sulle tempistiche grande domanda il tempistiche secondo me una cosa che incite tanto è l'expertise che ha il partner che ti segue perché se il partner che ti segue ha poca expertise il tempo che ci mettono almeno la metà è per capire cosa dovrebbero fare sulla nuova piattaforma sui casi di e-commerce cloud quindi casi con enterprise non è che ci sono tanti brand che lo fanno che si permettono di farlo che possono permettersi quindi c'è tanto ancora da scoprire da capire e quindi una parte di tempo viene utilizzata l'agenzia per capire come funziona mi sembra che abbia delle fix interessanti e che sia valido noi venivamo anche da uno storico culturale su Magento quindi anche tutta la parte di categorizzazione insomma store view eccetera eccetera se avessi dovuto cambiare anche quelle ci avrei messo altri due anni Francesco sa cosa vuol dire fare un piccolo cambiamento su un progetto fashion quindi mi è sembrata l'evoluzione diciamo migliore sapendo che si faceva un po' un salto in un mondo nuovo già adesso ma soprattutto ho visto questa slide che vedo già in futuro io ho avuto e ho chiesto la sentiamo subito no no è interessante perché ho chiesto questa cosa qua in realtà quando poi abbiamo scelto ho chiesto ma Magento andrà in una direzione cloud ovvero la Shopify che poi non devi più rinnovare le versioni o anche lì ci saranno delle versioni da rinnovare e quindi come siamo passati dal Magento a 7 all'1.9 poi al 2 poi al 2.3 eccetera eccetera detto che la domanda che ho fatto mi sembrava molto tecnica per l'account a cui l'ho fatta è molto previsionale la loro domanda era stata in teoria andremo verso quella direzione dentro dici quella di Shopify senza versioni no 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 dico sì come Shopify senza versioni questo è quello che mi è stato detto dall'account di Magento Adobe guarda vado mi aggiungo perché ho visto i commenti su i commenti su Facebook su YouTube scusami e ne approfitto per salutare Giuseppe Morelli esatto che ci che aveva già scritto giustamente che un pezzettino del Lord of Management di Magento di Adobe Commerce è appunto scritto in Java quindi in realtà ci sono dei pezzettini dei moduli tecnologici scritti in queste tecnologie o in altre tecnologie che effettivamente per cui Adobe può avere bisogno di sviluppo quindi in realtà quello che volevamo far capire giustamente è una provocazione è tante cose si possono interpretare in base anche alla volontà di chi poi indirizza un pochettino oppure crea un po' di flame se vogliamo i social sono pieni di flame quindi il tema in questo caso no non c'è Magento 3 io ho fatto la stessa domanda che ha fatto Jonathan per un altro pre-sale molto importante e in realtà c'è una bella roadmap di versioni che ancora hanno in piano e ci hanno messo e ci hanno fatto vedere quindi in realtà Magento 2 sarà il futuro e continua con una serie di versioni che portano tra l'altro una serie di funzionalità ripeto sempre più enterprise quella è la direzione ce l'hanno già detto e in realtà ce l'avevano già implicitamente detto prima ma adesso è proprio scolpito sulla roccia però no non c'è Magento 3 per cui tolgo la slide se siete tutti d'accordo che se no qua ci bastonano quelli che non sentono l'audio dicono cazzo quelli hanno detto che c'è Magento 3 beh qui fa il picco chi entra adesso vede solo quello esatto però qui fa il picco su questa slide è vero però ecco quindi quella subito dopo era questa non a caso ok 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 no una cosa invece a proposito di rumors che vedevo prima so non faccio nomi che nell'underground degli sviluppatori ci sono tanti che si trovano davvero a che fare con il Magento Enterprise che chiedono a quelli del Magento Community supporto perché ci sono cose che non si possono risolvere e questo è un temone tant'è che io lo vorremmo affrontare direttamente con Adobe visto il brand che portiamo e noi con Adobe abbiamo questo accordo un po' di essere anche dei testimoni al nostro dell'ambassador con l'accordo però che se abbiamo dei problemi ancora non siamo là ma quando li avremo poi torno da loro a bussare perché insomma ci deve essere questa partnership visto la fortuna insomma del nome che abbiamo come brand però non può esistere che la versione Enterprise ha dei problemi e si va a chiedere capito sulla versione Community di come risolverli questa è una cosa che assolutamente come Adobe non possono permettersi diciamo che la community Adobe Magento è cresciuto con la community esatto è stata proprio la forza della community che ha fatto diventare Magento quello che è adesso poi ovviamente gli investimenti e tutto il resto però effettivamente quello che ci accomuna un po' a tutti è la crescita che ha avuto negli anni anche gli aggiornamenti che sono stati tantissimi negli anni la maggior parte sono stati fatti dalla community quindi sì Jonathan questo è un argomento molto molto interessante da discutere ma io appena vado là intorno a bomba di là ad Adobe perché non dico nel momento in cui Adobe fa la scelta strategica di dire puntiamo sulla versione Enterprise perché chiaramente ci porta dietro a livello di budget più budget questo è abbastanza comprensibile però qui devi dare un servizio all'altezza cioè non che dici semplicemente dividi due servizi Adobe Enterprise con community e poi l'Enterprise in realtà è semplicemente che paghi di più e ti metto due feature giusto per ok questo è un po' il messaggio che voglio far passare e spero di non dover far passare quindi lancio come dire l'ammunizione perché già mi sono arrivati certe voci siccome questa cosa io l'ho detta all'inizio prima di tutto va bene nel senso lavoriamo insieme a quattro mani o più mani però per far sì che è magento per chi ci crede perché c'è un mondo che crede questa piattaforma le sue potenzialità e nel momento in cui Adobe si affaccia sul mercato non c'è semplicemente ok devo allinearmi ai Shopify Salesforce all'Ibris di turno però in realtà non do lo stesso servizio e lo stesso supporto o la stessa sicurezza della piattaforma quindi questo siccome è un tema delicato che piano piano che brand andranno su questa versione e tireranno fuori brand o comunque insomma aziende c'è una domanda per Jonathan appena arrivato allora ci chiedono qual è secondo te e-commerce manager l'aspetto principale da valutare nella scelta di un partner soprattutto per progetti complessi per realtà che lavorano in settori ben specifici come può essere quello del fashion allora bella domanda allora non esiste parto con questa frase per Magico un po' di volte non esiste l'agenzia perfetta ok perché spezzare la lancia a favore anche delle agenzie bisogna essere anche un po' pronti come azienda a fare certe cose quindi c'è anche un tema di quanto sei pronti in azienda per poter essere più autonomo per guidare il business quindi cerchi un'agenzia che ti aiuti a sviluppare quello di cui hai bisogno perché l'hai già individuato faccio un esempio a caso prendo un Francesco Chiapini di turno ti chiedo un supporto e poi insieme col team quindi faccio una roadmap di quello che mi servirebbe vado all'agenzia e dico eseguilo oppure cerco un'agenzia che abbia già un Francesco Chiapini dentro o uno stratega dentro uno che ha visto determinate dinamiche e mi affido totalmente e gli chiedo di fare tutto per me e quindi cerco un fulfillment e gli devo tutto questa è la principale domanda che uno si deve fare perché se cerchi un'agenzia io la cercherei flessibile e veloce nel deployare che è assolutamente un pain point di tanti progetti e che abbia chi chiaramente conosca già un po' dinamiche di quel settore quindi abbia già dei case nel settore che non è detto che debbano essere alti anzi molte volte sapete chi arriva su multi brand le famose boutique che sono quelli che lavorano e danno più problemi ha già risolto tantissime problematiche che un brand non dà quindi in realtà non c'entra il livello secondo me di fatturato c'entra il livello di complessità che ha gestito dall'altra parte poi dipende cosa cerchi quindi cerco qualcuno che mi aiuti mi supporti anche a livello strategico a livello di IE o cerco qualcuno che mi dia una velocità perché sono già abbastanza maturo come team per dirigere il progetto questo secondo me è la grossa è la grossa divisione ci sono tante agenzie brave ci sono agenzie che hanno tanta gente dentro e quindi possono anche darti supporto su altre tematiche tipo la Cina faccio un esempio che non tutte le agenzie hanno dentro se devi fare del cross border in Cina o dei progetti in Cina hai bisogno di qualcuno che magari è più facile che ce l'hai nella stessa agenzia per anche un tema economico quindi dipende secondo me molto un po' dal livello del progetto in termini di internazionalità e quanto sei maturo internamente per guidare un progetto esatto esatto perché comunque se è l'azienda che guida il progetto e quindi deve avere un ufficio digital al proprio interno e tante aziende anche grandi non ce l'hanno con degli specialist bravi e quindi l'agenzia di sviluppo fa la parte poi di sviluppo a cascata riceve già quello che deve fare e si dedica diciamo alla parte di programmazione faccio un esempio se tu dici non so se conoscete adesso c'è il tema della nuova legge anche sui marketplace no? legge europea eccetera eccetera bene se tu dici non è un'idea in casa nella tua azienda quindi anche il dipartimento di amministrazione fiscale non è un'idea è chiaro che è meglio avere un partner più alto che ci passa già con altri con altre casistiche che non gestisce soltanto progetti italiani ma anche progetti almeno europei sono internazionali devi gestire le tasse in America devi gestire i dazzi da una parte o dall'altra cioè dipende un po' anche dalla dimensione se invece veramente sei bravo e hai voglia anche a volte di andare a fondo su tutte queste tematiche extra di progetti e-commerce puoi scegliere un'agenzia più smart più economica e più veloce nella gestione Dell verissimo quello che mi porto a casa è quello che dicevamo prima la tecnologia ha supporto della strategia assolutamente assolutamente e questo purtroppo non lo fa ho trovato un trucco che vi consiglio di utilizzare prossimamente te lo scrivo qua in chat se scrivo lo leggono tutti se lo faccio ok guarda se sprovo guarda guarda che trucco che ho trovato allora eh no lì è format di due punti ma questi sono in private chat quindi non lo vede solo voi no no sì sì infatti bisogna che facciamo scrivere da Francesco tu scrivilo lì vai Francesco ci fa la valle ok dopo te lo spiego quindi uno tecnologia due risorse ma lo devi scrivere così eh cioè prima di partire da business al contrario al contrario capito lì il trucco mi fate le cose difficili eh no ma per questo guarda è una roba che è successa ieri l'ho imparata da un collega da un mio amico e ho detto è top perché tu parti sempre adesso poi la spieghiamo intanto che compare tu parti sempre parti sempre la tecnologia no cioè devo fare il progetto nuovo e-commerce che cosa scelgo di piattaforma quando in realtà è l'ultima roba però negli argomenti si parla da quello poi ti chiedono ma di che risorso ho bisogno cioè quanti specialisti quanti ho bisogno di questa roba e poi ti dicono bene quanto fatturiamo no cosa possiamo fare però è sempre come dicevi tu adesso Andrea l'ultima parte quando si parla di digitale invece dovrebbe essere il contrario prima parte dalla strategia quindi al business quanto vuoi fatturare tutto il resto poi quante risorse ti servono per gestirlo e poi la tecnologia a supporto quindi scritto così al contrario potrebbe essere una cosa che si inizia a comprenderla cominci a arrivare dici esatto ho notato che arriva un po' meglio per la serie siamo venuti dall'1 dal 2 dal 3 ma in realtà te li elenco in realtà in valore di importanza perché se non scegli la parte ho fatto una cosa oggi pomeriggio con un brand di Bologna oltretutto molto forte su un progetto internazionale dove erano tutti preoccupati sulla parte tecnologica logistica operation tutto il resto e non avevano ancora smarcato la parte business cioè quando saremo live non possiamo essere live con questo progetto non hanno fatto ancora il contratto non si sa ancora le vendite cioè non si sa ancora niente però erano già tutti preoccupati su quante persone mi servono e che tecnologia usare quindi è più facile non so non so forse perché c'è questa tendenza perché forse fa un po' più figo parlare di Shopify o Magento eccetera o no però è uno guarda l'obiettivo a lungo termine esatto quella sensazione di concretezza del tipo ho già fatto tutto quando in realtà bravo 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 e lo so noi ci proviamo noi con e-commerce insomma all'interno poi di tutti gli interventi con e-commerce school diglielo Francesco noi la vita che diciamo come scegliere la piattaforma capisci cosa devi fare no tecnologia no mio cugino sa fare wordpress allora lo faccio così in realtà tanti progetti saltano anche per aver scelto piattaforme errate oppure hanno rifatto due volte scelte sbagliate a livello tecnologico e quindi dopo il budget è finito e e si bruciano in questo modo quindi la parte di pianificazione spesso si fa solo sulla parte di advertising di posizionamento di studio delle buyer personas e di ritorno dell'investimento e non viene fatta l'analisi funzionale tecnica che invece è importante e va inserita in una fase proprio di business business planning è fondamentale guarda ho visto un altro un altro progetto che diciamo enterprise da un punto di vista di brand ma non da un punto di vista di potenzialità online che fattura 10-20k all'anno hanno fatto un setup da 95.000 cioè ok è certo capito quindi questo poi dopo si può insabbiare si può dire vabbè fa parte del buon investimento in generale in tecnologia eccetera eccetera in conti economici però fa capire come è importantissimo partire prima dal business poi è chiaro che uno quando è arrivato a fare bene dici Salesforce mi costa dico una cifra x più o meno il 3% delle vendite faccio un esempio perché bene cosa mi dà per quel 3% ok allora magari valuto non so un enterprise che mi costa meno di Magento faccio un esempio oppure un Shopify che dopo fai delle valutazioni per un tema di proprio sui costi no su quello che ti dai sui costi fai delle valutazioni in generale ma non devi partire al contrario cioè prima parto dalla piattaforma super mega eccetera e poi con calma faccio il business assolutamente assolutamente anche perché senza advertising senza potersi coprire dei costi di start up di gestione costi di gestione innanzialmente tutti quelli che sono i costi fissi e variabili poi e-commerce non cresce non vendi e di conseguenza non ti riesce a ripagare neanche l'investimento della piattaforma anche Shopify comunque nella Plus se pensi che ha una fee di 24 mila euro l'anno in 5 anni ti costa 100 mila euro tendenzialmente più tutti gli sviluppi e poi ci devi andare a mettere sopra parla delle classi adesso ha fatto una bella evoluzione la evoluzione l'advance non so se l'avete letta nel tema dei listini che permette di utilizzarli anche in multicore e quello secondo me è un ottimo aspetto anche per entrare su tanti progetti però tanto Francesco lo sa noi abbiamo puntato molto negli ultimi due anni sull'internalizzazione di alcuni alcuni asset come la logistica lo shooting che ci hanno dato un boost in 20% già da un anno all'altro solo per quello pre-covid parlo quindi lascio per una tema il covid dobbiamo migliorare tanto si può migliorare tanto però la piattaforma per com'è comunque il fatturato c'è e cresce quindi la piattaforma ti aiuta assolutamente ma se dietro c'è un bel business poi ti basta un supporto che va in base più al team ai costi secondo me e la propura dei partner si quando già sei avanti ecco poi la complessità è più in fase iniziale anche perché se tu sei già molto avanti a una tua redditività dei fatturati ormai instabili puoi anche permetterti di sbagliare degli investimenti e magari puoi anche tornare indietro rivederli cambiarle e dire ho buttato x soldi ho fatto un errore però poi fai la scelta giusta in start up spesso non si ha questa possibilità quindi è ancora più importante fare la scelta giusta è più difficile è anche più difficile è anche più difficile è anche più difficile ok direi di chiudere l'intervento avevamo altre slide guarda chiudiamo con una chiudiamo giusto con chiudiamo giusto con con qualche consiglio perché tanto eravamo arrivati alla fine cioè che è che è tranquillizzarsi perché il mondo cambia e noi non dobbiamo in qualche modo aspettare che cambi o comunque stressarci per questi cambiamenti ma dobbiamo analizzare il business essere strategici e essere analitici e in qualche modo cercare di essere proattivi riguardo ai cambiamenti quindi anticiparli per farlo c'è che questo è un ottimo punto Alessandro questo è un gran punto perché c'è un po' l'ansia di dire cambia la piattaforma cambia questo cambia quell'altro quindi invece se tu lo digerisci e dici sai che tanto cambiamento c'è tu vai avanti nel tuo lavoro fai le cose che devi fare tanto il cambiamento arriva inoltre che ti faccia è un ottimo punto questo non sono come gli aggiornamenti dell'iPhone che appena lo vedo lo voglio fare un po' perché non vedo l'ora in realtà questo dato imprenditoriale un po' ti incastra i meccanismi tranquilli c'era questa slide di prima che rende bene l'idea poca ansia tanta tranquillità il mondo cambia se non cambiasse sarebbe un problema perché non ci darebbe l'opportunità di migliorare e di differenziarci dai competitor e quindi nel cambiamento io ho tanti clienti che dicono ma in fondo sai il covid sì sono andato peggio ma sai cosa io ci credo veramente qui ci ho investito in sto business in realtà mi sono pulito di una serie di competitor micro competitor che mi portavano via un po' e adesso quando già sto collezionando nuovi clienti nuovi lead in realtà quando ripartirà mi troverò un mercato un po' più sgombro in cui sarò più posizionato sono opportunità i cambiamenti ci sono comunque mettiamolo in conto anche tecnologici e quindi come andare avanti noi volevamo chiudere un po' questa parte qui dicendo e dando l'ultimo consiglio come anticipare i cambiamenti formandosi ce ne sono tante di possibilità e-commerce school è sicuramente una di queste tutti quelli che sono qui seguono Francesco già da tanto io e Andrea Jonathan mi seguiamo da altrettanto forse qualcosa in più c'è Magentiamo se volete in Italia essere aggiornati fare informazione e formazione su Magento e quello che sta succedendo su Adobe Commerce se vogliamo e tanti altri in realtà network di informazione legati a Magento che vi abbiamo elencati qui e che potete andare a vedere vi invitiamo e vorremmo chiudere così vi invitiamo a quello che noi abbiamo io e Andrea abbiamo organizzato già nel 2020 questa è la seconda edizione un evento cardine per l'informazione su Magento su Adobe Commerce quindi su come si chiamerà Adobe Magentiamo Day 2021 quasi non penso ci lasci in old brand però Adobe si addobbiamo 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 tra l'altro Jonathan è stato ospite al Magentiamo Day dell'anno scorso e vediamo insomma speriamo che sia anche quest'anno speriamo che sia fisico quest'anno noi lo abbiamo organizzato fisico perché non saremo bellissimi ma mi piace vedervi ci piace vedervi tutti da vivo soprattutto tutti gli speaker che l'anno scorso abbiamo purtroppo dovuto gestire a distanza quindi fisico il 24 settembre vedete il countdown e la landing sul sito e ovviamente Francesco e Jonathan sono super invitati allora sempre sul discorso sì prego scusami Francesco aggiungo una piccola cosa sempre sul discorso della formazione grazie Alessandro insomma per l'assist su Magentiamo Day terremo anche un corso per chi fosse interessato a luglio proprio dopo il corso di Commerce School quindi se volete insomma approfondire il discorso formativo sulla piattaforma ne parleremo a luglio e poi approfondiamo sicuramente al Magentiamo Day con temi sempre più aggiornati bene direi che abbiamo sporato grazie Jonathan per il mini intervento ma super interessante grazie a voi non eravamo d'accordo non eravamo d'accordo giuro ci piace ci piace improvvisare grazie mille della tua disponibilità vi dico questa frase ai tavoli più alti che arrivano sempre i migliori quindi se ci si incontra è perché è così guarda lo sto vedendo proprio negli ultimi mesi e arrivi in fondo sei sempre quella stessa persona quindi vuol dire che le competenze la professionalità sale in alto e questo è anche una bella cosa a livello democratico che in Italia diciamo che non siamo famosi per essere questa cosa qua però se su certi tavoli ci sono certe persone proprio perché c'è questa voglia di condividere di conoscere non ci si ferma mai curiosità e tutto il resto e quindi bellissimi progetti grazie Jonathan grazie Jonathan grazie Jonathan ciao ragazzi ciao Jonathan a presto ciao Andrea ciao Alessandro grazie